Nutrire il pianeta, energia per la vita, il titolo, il filo conduttore, lo spirito di Expo e questo nostro collegamento si apre nel nome del primo alimento che tutti incontriamo, il latte. A rappresentare la filiera italiana del latte è Gruppo Granarolo, partner di Padiglione Italia. Miriam Finocchiaro, responsabile comunicazione, come raccontate il latte all'Expo ai milioni di visitatori all'interno di questa galassia bianca, di questa goccia che l'architetto Mario Cucinella ha realizzato per voi? Siamo qui per rappresentare la filiera italiana del latte, lo facciamo attraverso questa grande galassia, una galassia che riserva delle sorprese perché in ogni angolo si scoprono cose nuove. Si passa dalla Madonna del latte che è un'opera del 1400 che è stata ritrovata due anni fa a Bologna da una fanciulla Francesca Passerini della Fondazione Lercaro che ne ha valutato e stimato il grande valore, la sottoposta all'attenzione dell'ufficio beni culturali e di fatto è stata selezionata come una delle opere più importanti, uno dei ritrovamenti più importanti dell'anno. Di fatto la Madonna del latte viene ospitata per la prima volta in questo spazio e viene proposta per la prima volta al grande pubblico. È un po' la metafora della madre terra perché è la trasfigurazione della madre terra, madre terra che rappresenta Granarolo perché Granarolo è controllata dai mille allevatori italiani che fondamentalmente ogni giorno che Dio manda su terra conferiscono il loro latte nei 12 stabilimenti del gruppo. Altri spazi che sono all'interno di questa galassia sono gli spazi di gioco, abbiamo chiamato Milk for Life questa zona dove invitiamo i visitatori a giocare con il latte, a scoprire quanto latte produce una mucca ogni giorno oppure a giocare con latte nel cinema, scoprendo per esempio che il latte è una materia prima che ha ispirato moltissimi grandi autori. A proposito di cinema c'è anche uno spazio che è qui dietro alle nostre spalle dove uno davvero si immerge nel vostro mondo, nel mondo del latte ma anche quello dei formaggi, formaggi molli, formaggi duri, tutta questa galassia di prodotti e davvero immergersi è la parola giusta. È un video immersivo, è un video su tre schermi che è stato realizzato dalla Tarpini Production, ha come direttore Giacomo Gatti che è l'aiuto regista di Erman Olmi ed è un video che racconta un po' la nostra storia attraverso immagini riprese all'interno dei nostri allevamenti e dei nostri stabilimenti. È un video raccontato attraverso immagini ma anche una piccola storia e un filo conduttore. Non compare in nessun momento il brand Granarolo perché pensiamo che il modo migliore per raccontare soprattutto ai visitatori stranieri, tanti di questa Expo, il nostro mondo sia quello di raccontarlo attraverso delle immagini che ispirino la ricchezza del patrimonio italiano, la ricchezza del saper lavorare questa materia prima straordinaria che è il latte. Allora io ti volevo chiedere proprio questo Expo, per me sono passati due mesi e mezzo, si è aperto fra tante polemiche, tanti timori, la gente c'è, ce n'è tanta, poi adesso questi mesi dell'estate magari complice il caldo qualcuno aspetterà settembre-ottobre, ma allora come sta andando? Sta andando discretamente bene, noi siamo molto soddisfatti, il numero di visitatori stranieri è elevato, ci sono moltissime delegazioni che arrivano dall'estero e sono quelle che in questo momento intercettiamo con maggior piacere, nel senso che danno l'occasione a noi di valorizzare il latte italiano e il saper fare italiano in altri contesti, in un momento nel quale i consumi di latte, in particolare in Italia, sono in calo. Quindi abbiamo necessità di valorizzare la nostra filiera e il nostro saper fare in altri contesti. Ci sono delegazioni che arrivano da tutte le parti del mondo, abbiamo ospitato Canada, Brasile, ma anche l'Africa, la Tanzania, l'Algeria, davvero tante delegazioni. E poi ci sono i tanti consumatori italiani che ci vengono a far visita, ci dimostrano il loro affetto, ci chiedono informazioni sul latte e sui brand che rappresentiamo. Bene, allora visto che l'Expo è comunque anche un grandissimo palcoscenico, qui ci si diverte, si imparano tante cose, si ammirano opere d'arte, però ci sono anche i contesti in cui si affrontano i grandi temi, i grandi temi di attualità e i temi dell'economia, quelli molto legati anche al futuro della filiera lattiero-caseare. Allora di questo parleremo tra poco perché proprio qui ad Expo ci sarà un appuntamento importante, latte e cooperazione. Ci vediamo dopo. Grazie.